Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Rassegnati, il podcast di Feff Academy. Rassegnati siamo noi tutti, a cui tocca tutti i giorni sorbirci la propaganda e l'ipocrisia dell'informazione spesso pilotata e o incompetente dei nostri giornali mainstream. Io sono Matteo Bernabè, giornalista che per Feff Academy cura la sezione informativa. Questa è la rassegna stampa di lunedì 15 maggio 2023. Buongiorno a tutti ancora una volta, nuova settimana che inizia praticamente come finita quella scorsa, nel senso che si parla di questa visita, di ancora la visita di Zelensky, oltre a quella in Italia, venuta sabato, anche in Germania e in Francia, avvenuta appunto ieri. Qui ci siamo sorbiti in questo fine settimana una vasta, vastissima propaganda da parte sia dei giornali sia delle televisioni su questa visita di Zelensky in Italia. Non so se avete visto anche la trasmissione che ha fatto Bruno Vespa nel pomeriggio di sabato, nel quale ha intervistato Zelensky insieme a tutti gli altri direttori e giornalisti super stra mainstream del nostro paese che naturalmente hanno tessuto le lodi di questo abile politico, eccetera, eccetera. Insomma, se volete andarvela a vedere sul sito della RAI la potete ritrovare. Nulla evidentemente di interessante da segnalare, se non che Zelensky ha ribadito praticamente tutto quello che aveva già detto a Bruno Vespa qualche mese fa in quell'intervista, nel senso che lui non tratta con Putin, che le armi servono sempre più armi, le armi servono per garantire la pace, insomma tutte queste belle cose qui sono state ripetute e quindi questo è quanto. Quest'intervista è avvenuta dopo quello che è successo nella mattina, nel primo pomeriggio dove ha incontrato appunto Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica, Mattarella, e anche il Papa e dopo vedremo anche i risvolti di questo incontro avvenuto in Vaticano. Detto questo, stamani naturalmente i giornali tornano sulla questione Zelensky e rilanciano ovviamente come perfetti megafoni della propaganda quanto detto da Zelensky, ovvero che Kiev vincerà entro l'anno. Ragazzi, aspettatevi che l'Ucraina vincerà contro la Russia, questo ci ha detto Zelensky. Zelensky a Berlino dice pronti alla controffensiva, la famosissima controffensiva di primavera che non è ancora praticamente iniziata e ovviamente è tornato a ribadire anche a Berlino che ci servono i jet, questo ha detto. Scholz ha detto invece il cancelliere tedesco Mosca si ritirisi, sicuramente Putin seguirà il consiglio di Scholz, senz'altro. Tour diplomatico, prima dello scontro decisivo, scrive, lo scontro decisivo che sarebbe questa controffensiva, scrive il Corriere. Il Papa dice le armi distruggono la speranza, giustamente mi sembra insomma la palissiano, insomma il fatto che le armi non garantiscano la pace come riportava anche ieri Repubblica, non so se avete visto il titolo di ieri di Repubblica dove ha praticamente citato, appunto ha riportato un altro virgolettato da perfetto megafono della propaganda, le armi italiane salvano vite, ha detto Zelensky nel momento in cui naturalmente ha fatto l'ennesima richiesta di armi. C'è qualcuno che giustamente ha tweetato come l'account della Fionda che è un giornale che seguo su Twitter ma anche sugli altri social, quindi è un giornale tra l'altro da seguire, interessante da leggere sicuramente, La Fionda si chiama, se non lo conoscete, La Carbonara fa dimagrire, giustamente ha risposto a questo tweet in questo modo, insomma, piuttosto sbrigativo ma centrato, insomma. Detto questo, poi su questo titolo ci ritorneremo anche sulla prima pagina del Fatto Quotidiano perché insomma anche lì qualcosa si dice stamani giustamente perché è l'unico giornale peraltro che diciamo mette nel mirino questo titolo veramente propagandistico, non dico neanche scandaloso o incredibile, cioè è pura propaganda questa roba qua. Detto questo, dice il Corriere, tornando sul Corriere, la sconfitta russa sarà irreversibile, arriverà entro quest'anno, dice il presidente ucraino Zelensky che continua il tour diplomatico, sì, dobbiamo crederci sicuramente. Dopo Roma l'arrivo a Berlino e lancio un appello agli alleati europei per l'offensiva, servono jet, dice, il Cancelliere tedesco, che tra l'altro tutti hanno già detto che non forniranno, mi sembra, di ricordare, no, su questa storia dei jet, vabbè. Il Cancelliere tedesco Scholz riconosce il piano di pace di Kiev e chiede a Mosca di ritirare le truppe. Intanto in Ucraina tornano a suonare le sirene da Bakhmut a Kherson, da Ternopil a Kharkiv, la carneficina, non si ferma, il Papa dice che le armi distruggono la speranza. Forse questa cosa non piace molto a Zelensky. Detto questo, non so se avete visto, nessun giornale l'ha riportato stamani in prima pagina, che però, insomma, ieri c'è stato anche un dibattito piuttosto ampio sui social, rituitato, gli esponenti politici che sono anche intervenuti rispetto a questo, non a esponenti politici, diciamo, di primissimo piano. Però, insomma, qualcuno è intervenuto sulla questione della famosa felpa di Zelensky, nel senso che anche questa volta, ovviamente, per fare la solita sceneggiata del Presidente, del Presidente Guerriero, si è presentato con questa felpa in questi incontri istituzionali, sia al Quirinale che in Vaticano, che da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, insomma, con questa felpa nera, felpa nera e con questo simbolo che spesso abbiamo visto ricorrere, il simbolo che sembra fosse il simbolo, lo stemma dell'Ucraina, no? Questo tridente, no? Questo simbolo che rappresenta un tridente, sostanzialmente. Il fatto è che quel simbolo che aveva sulla felpa qualche sabato, in questi incontri, Zelensky, non è esattamente il tridente stemma dell'Ucraina, ma era più simile, molto più simile al tridente rivisitato da una formazione neonazista che si chiama Pravi Sector, una formazione nazionalista neonazista che si chiama Pravi Sector Ucraina, naturalmente, dove al centro, diciamo, il dente centrale del tridente è stato sostituito con una spada. E Zelensky aveva proprio addosso questo simbolo, che è molto simile all'altro, ma non è lo stemma ufficiale dell'Ucraina, quello. Quindi c'è stato un po' di dibattito sui social, ovviamente i giornaloni questa cosa non l'hanno messa in evidenza, anche perché avrebbero messo in imbarazzo le istituzioni italiane, soprattutto, visto che sono delle istituzioni come, per esempio, il Quirinale, ma anche il Governo, che sono in qualche modo codificate in quella carta costituzionale, che è frutto della lotta antifascista. Quindi è ovvio, in qualche modo, che certi, che diciamo, i grandi media, insomma, non abbiano messo in evidenza questa cosa perché avrebbero poi costretto il Quirinale, evidentemente, mi immagino, il Quirinale, insomma, a fare un'uscita, insomma, in merito a questo. Rispetto a questo, è stato uno dei pochi politici intervenuti su questa questione Maurizio Acerbo, che è il segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che ha detto, se si fa attenzione, si nota che quello sulla maglia di Zelensky non era il tridente simbolo nazionale ucraino, nel simbolo nazionale ucraino non c'è la spada, che invece caratterizza il simbolo dei filo nazisti dell'OUN, che sarebbe l'organizzazione dei nazionalisti ucraini, riabilitati dopo Euromaidan, che sarebbe, insomma, quello che è successo nel 2014, insomma, sappiamo bene, il cambio di regime a Kiev. E in quello dei neofascisti di Pravi Sektor, ricorre quindi questo simbolo della spada al posto del dente centrale del tridente in questi simboli, insomma, anche quello dei neofascisti appunto di Pravi Sektor. Zelensky ha scelto una maglia nera col simbolo neonazista come omaggio a Giorgia Meloni, al presidente Mattarella, chiedo se non si sente offeso dall'ostentazione di un simbolo fascista, chi continua a Cerbo, eccetera, eccetera, insomma, effettivamente mettere in evidenza una cosa simile avrebbe potuto mettere molto in imbarazzo quello che, insomma, come le massime istituzioni italiane che sono fondate, diciamo, da derivanti in qualche modo da una lotta antifascista, antinazista, ovviamente, quello che successe diversi decenni fa. Detto questo, nel frattempo mi ero andato, sono andato anche un po' a vedere, per esempio, qualcuno lo chiedeva tra l'altro online ieri, ma in Germania si è presentato con questo simbolo sulla felpa Zelensky? La risposta è no. In Germania sono, diciamo, probabilmente perché in Germania sono molto più attenti alla simbologia nazista, addirittura ci sono, insomma, delle leggi che vietano e puniscono molto pesantemente chi, diciamo, mostra in pubblico una certa simbologia. Quindi probabilmente, sapendo questo, Zelensky ha visto bene di non mettersi addosso la felpa con quel simbolo lì. E in aggiunta a questo, non so se vi ricordate, qualche mese fa, quando c'erano dei militari ucraini che erano andati in Germania per poter fare degli addestramenti, eccetera, eccetera, le, diciamo, le forze militari tedesche avevano messo dei cartelli, avevano installato dei cartelli nei luoghi, insomma, dove venivano questi addestramenti, eccetera, nei quali veniva scritto, veniva evidenziato che in Germania i simboli neonazisti, simboli nazisti che richiamano, insomma, quell'oscura storia, non erano minimamente tollerati. E questo lo mettevano perché sanno bene, insomma, come gira la faccenda dalle parti dell'Ucraina, insomma, dopo questa riabilitazione di questi simboli, di questa simbologia, di questa, diciamo, di questi seguaci anche degli emissari di Hitler in Ucraina, insomma, di questo nazionalismo molto più vicino al nazismo, insomma, che non ha una destra, diciamo, moderna, in qualche modo. Ecco, questo era da dire, era doveroso dirlo. Detto questo, poi, sulla questione di Kiev, della visita di Zelensky e delle armi, ci ritorneremo, sicuramente. Detto questo, l'altra notizia che ho messo in evidenza è che Fabio Fazio va via dalla RAI e insieme alla Litizzetto e Salvini twitta, belli ciao, dice belli ciao, nuovo contratto con Discovery, appunto, Fabio Fazio lascia la RAI, ma mi sembra, poi vedremo anche sulle prossime pagine, lo commenteremo sulle prossime prime pagine perché hanno dato, diciamo, ci hanno dato un taglio un po' più polemico gli altri giornali, quelli, diciamo, fintamente progressisti, ovviamente. Lo vedremo tra poco. E poi ho messo in evidenza, vabbè, c'è l'intervista a Djokovic che ora, passata la pandemia, passata l'emergenza Covid, passata la follia vaccinale a cui siamo stati sottoposti per due anni, praticamente Djokovic viene riabilitato e anche il Corriere della Sera naturalmente può tornare a parlare, a intervistarlo. C'è un'intervista di Aldo Cazzullo, appunto, a Djokovic che dice sono un lupo solitario come quello che vidi da bambino. La cosa simpatica è che naturalmente il Corriere, non potendo mandare giù il fatto che Djokovic è stato uno dei pochissimi campioni ad essere intervenuto pubblicamente contro i vaccini anti-Covid, mette in evidenza il Corriere, il campione serbo dice, ma è stato Novax. Qualsiasi cosa voglia dire Novax, perché, vabbè, non torniamoci sopra. Io non l'ho ancora capito che cosa intenda questa gente quando bolla e mette etichette di Novax sulla fronte, sul petto della gente. Vabbè, detto questo, detto questo, mi piaceva riportare, no, mi fa sempre ridere quando i giornali, i giornaloni, si accorgono che Giorgia Meloni non è sovranista. Incredibile, incredibile questa cosa. Stamani c'è Maurizio Ferrara che nel suo editoriale Quei giochi europei sull'Italia dice questo, sentite. Lo scorso ottobre l'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi fu visto come un piccolo terremoto in Europa. Gli elettori di uno dei paesi fondatori della UE avevano scelto un leader dichiaratamente sovranista, dichiaratamente sovranista. Già questo ci fa capire tutto, no? Quando naturalmente noi eravamo lì a dirvi, cari signori, qui non c'è niente di sovranismo, cioè qui c'è una sorta, ci sarà una prosecuzione di quello che è stato fino a oggi, le politiche di Giorgia Meloni sono uguali a quelle di Draghi, a quelle del PD, quindi non spaventatevi, cari signori, che temete il sovranismo, dicevamo allora. Però nessuno, naturalmente, tutti se ne... nessuno ovviamente si dava peso, naturalmente, ma giustamente, insomma, a questi nostri avvisi e però poi quello che si è rivelato è questo che sto leggendo adesso con questo editoriale, insomma, di Maurizio Ferrera che dice, una novità che rischiava di compromettere il fatto che fosse sovranista Giorgia Meloni, una novità che rischiava di compromettere i delicati equilibri fra paesi politici e forse lo stesso processo di integrazione. Pensate un po'. In realtà a Bruxelles il cambio di governo a Roma ha generato per ora conseguenze limitate. Ma va? Ma non l'avremmo mai pensata questa cosa. Cioè, abbiamo visto sin dal primo giorno Giorgia Meloni come ha applicato, diciamo, le sue... come non ha applicato le sue promesse, quindi è andata al governo e ha, diciamo, fatto retromarcia praticamente su tutto in primis su, diciamo, le... diciamo, le sue proposte più sovraniste, se vogliamo chiamarle così. Eh, quindi, insomma, mi fa sempre ridere, mi fa sempre ridere come certi editorialisti, no? Cadano un po' dal pero, certi giornali, cioè, quasi tutti, cadano dal pero e dicono oh, guarda un po', Giorgia Meloni non è veramente sovranista, ma guarda un po', ma guarda un po', vabbè, c'è chi lo diceva appunto in tempi non sospetti. La Repubblica poi si stupisce che un governo di centrodestra faccia andare la RAI a destra, perché questo è il titolo di Repubblica stamani, RAI a destra, Fazio lascia. Il conduttore passa a Discovery con l'ITZ, dopo il mancato rinnovo del contratto, non tutti sono adatti per ogni narrazione, dice lui, Salvini ironizza, belli ciao, il PD protesta, è una sconfitta per il servizio pubblico, oggi il cambio dei vertici voluto dal governo, questo è quello che riporta la Repubblica che si stupisce di una cosa che viene fatta puntualmente da tutti i governi che si susseguono, nel senso di lottizzare la RAI, sempre successo, sempre succederà finché la RAI sarà TV di Stato, ma è bene in qualche modo che resti un servizio pubblico, magari un po' più departitizzato, ma diventa, in Italia sappiamo bene che è molto, molto complicata questa cosa. Detto questo, questa non deve essere una scusa per svendere la RAI perché sarebbe l'ulteriore l'ennesima svendita, l'ennesima svendita, perché poi la propaganda non sarebbe più in mano al governo, ma sarebbe poi in mano a privati, di fatto, alla fine, che forse è anche peggio. Detto questo, detto questo, poi vabbè, c'è il commento di Sebastiano Messina che la chiama questa operazione pigliatutto, come se tutti i governi che sono venuti prima non avessero fatto altrettanto, insomma, sulla RAI, cioè è sempre successo, cosa vi stupite, cosa vi stupite. Detto questo, è bene che ci sia un po' di ricambio, comunque il RAI, che un megafono della propaganda come Fabio Fazio abbia finalmente fatto le valigie e si trasferisca da un'altra parte, perché ne ha prese anche troppi di soldi, mi sembra libero, ora stamani non l'ho messo in rassegna, però mi pare che Libero facesse il conto di quanti soldi sono costati Fazio e la Litizzeto, una cosa tipo 100 milioni, una roba del genere in tutti questi anni, insomma, di trasmissioni di Fazio sulla RAI. Mi sembra che sulla Repubblica non ci sia altro, ah no, una cosa volevo mettere in evidenza, che non ho detto prima, forse è la questione delle elezioni in Turchia, le elezioni in Turchia, e la fotonotizia infatti è dedicata proprio a questo, sulla prima pagina della Repubblica, la Turchia va verso il ballottaggio, l'opposizione dice siamo in testa con Erdogan, siamo testa a testa con Erdogan, in realtà dalle ultime notizie Erdogan sfiorerebbe il 50%, che non è sufficiente per vincere al primo turno, infatti probabilmente si dovrà andare al ballottaggio, non sono ancora concluse, però le ultime notizie dicevano che le sezioni scrutinate erano intorno al 98%, e Erdogan, che è il presidente uscente, era intorno al 49, qualcosa per cento, insomma, quindi non è arrivato al 50%, come sembrava dalle prime, diciamo, dalle prime, dopo l'inizio appunto dello scrutinio, che sembrava superare il 50%, detto questo non si è verificato quel sorpasso che era stato annunciato e auspicato da tutti i giornaloni dei nostri giornaloni che dicevano che lo sfidante Kilić Daroglu di Erdogan era, insomma, stava superando, aveva superato nei sondaggi il il sultano, come viene chiamato, no? Questo a dirla lunga sul fatto che è sempre stato descritto come un dittatore, eccetera, eccetera, Erdogan, cosa che alla fine non è visto che la situazione è che, insomma, un'opposizione mi pare che ci sia in Turchia altrimenti non avrebbe preso lo sfidante insomma intorno al 45% dei voti ecco questo la narrazione però ci diceva altro come ci diceva altro rispetto a questi sondaggi che poi si sono rivelati fuffa di fatto come spesso accade cioè gli auspici in qualche modo della geopolitica occidentale della propaganda occidentale spesso vengono confusi con i sondaggi però spesso sono più auspici che non veri e propri sondaggi detto questo detto questo a proposito di sondaggi c'è Ilvo Diamanti che stamani sulla prima di Repubblica ci dice che ci fidiamo dell'UE ma cala il sostegno all'Ucraina alla faccia e ho capito la sapevamo questa cosa cioè nel senso non è che serviva il fine sondaggista o il fine sociologo per dirci che cala il sostegno da parte degli italiani all'Ucraina mi sembra ovvio mi sembra normale visto che questa guerra gli italiani non ne hanno mai voluto sapere quindi figuriamoci c'erano già i sondaggi iniziali che dicevano questo figuriamoci oggi figuriamoci oggi però ci dice anche che ci fidiamo dell'UE nonostante diciamo in Italia gli italiani non siano così favorevoli e filo Bruxelles ecco mettiamola mettiamola così questo naturalmente è confortato dai dati di sondaggi che periodicamente vengono fatti che ci dicono appunto questa 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 cosa ecco detto questo passiamo sulla stampa passiamo sulla stampa che parla del caso di Fazio no la vergogna della Rai la vergogna una vergogna questa che Fazio vada via dice la stampa non ci sono uomini per tutte le stagioni Fazio via dopo 40 anni detto questo invece il titolo principale la stampa lo dedica all'intervista a Giuseppe Conte all'ex premier che dice Meloni investe sulla guerra ma così si rischia l'atomica intervista con Conte sbagliata la strategia con Kiev ascoltiamo il papa la premier invece dagli alpini rilancia l'idea della leva ecco altra altra no questione notizia di distrazione arma di distrazione di massa questa dell'idea della leva della mini leva come era stata chiamata da dalla russa dalla russa e poi dico una cosa sulla russa tornando alla questione di di Zelensky e del simbolo che aveva sulla felpa e quindi Conte Conte dice dice che i Meloni investe sulla guerra ma Conte quando era al governo con Draghi mi sembra che avesse votato e avesse approvato tutti gli invii di armi il Movimento 5 Stelle in Parlamento aveva approvato tutti gli invii di armi ora naturalmente dall'opposizione da quando è passata l'opposizione si è scoperto pacifista Conte e il Movimento 5 Stelle vabbè ipocrisia portaci via come come dico spesso detto questo tornando tornando sulla questione di la russa e di di Zelensky con il simbolo neonazista sulla felpa volevo riportare quello che ha scritto il l'economista il nostro amico economista Marco Veronese Passarella che ha detto che ha scritto ieri cimelli del duce custoditi a casa is for boys felpa pravi sector indossata in incontri istituzionali is for men naturalmente il riferimento ai cimelli del duce custoditi a casa è relativo al presidente del senato la russa insomma che non ha mai nascosto di avere dei busti di Mussolini a casa ovviamente suscitando tutte le polemiche possibili immaginabili titoloni dei giornali eccetera poi questo si presenta da Mattarella con il simbolo di 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 pravi sector e dei neonazisti ucraini però questo naturalmente viene evidenziato altra cosa ecco l'altra cosa che ha messo la stampa in prima pagina che ovviamente conferma un po' quel trend che abbiamo visto in tutte le tornate nelle ultime tornate elettorali è l'affluenza alle urne perché ieri si è svolto il cioè a ieri e oggi si svolgono le elezioni amministrative in circa 600 comuni in Italia e uno dei dati che insomma il primo dato ad emergere è stata insomma questa conferma dell'astensionismo in aumento suona per tutti la campana dell'astensione dopo il referendum dopo il referendum le elezioni politiche Lazio e Lombardia neppure questo turno amministrativo si sottrae al trend è ovvio lo abbiamo già spiegato in 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 puntate precedenti insomma che il fatto che ci sia questo astensionismo in aumento è molto semplicemente dovuto al fatto che se i politici si presentano in un modo vanno al governo e fanno l'esatto opposto è chiaro che poi uno a votare non ci va più mi sembra ovvio a meno che non ci abbia delle alternative valide insomma però tutte le alternative che sembravano valide poi si sono rivelate non valide vedi Movimento 5 Stelle vedi Fratelli d'Italia oggi e quindi insomma quello che può venire fuori non è altro che un aumento dell'astensionismo perché dice ma cosa vado i cittadini la maggioranza dei cittadini dice ma cosa vado a votare a fare cosa serve il mio voto se voto un certo programma e poi mi ritrovo l'esatto opposto quando questi vincono e vanno al governo è questo il fatto è questo il discorso è questa la questione l'altra cosa vabbè Erdogan la fotonotizia anche qui la stampa la dedica Erdogan Erdogan al ballottaggio finale sul filo di lana nelle elezioni turche il leader uscente sotto il 50% però nessuno naturalmente mette in evidenza che i sondaggi dicevano che lo sfidante era in vantaggio invece dalle urne risulta risulta chiaro che Erdogan è comunque in vantaggio rispetto allo sfidante detto questo passiamo sulla prima del sole 24 ore famiglie rincari vacanza al tempo dell'inflazione 800 euro in più le fiammate dei costi di voli hotel e affitti fanno aumentare le spese per una settimana di ferie richieste boom per l'ospitalità di lusso e questo è il titolo principale che viene dedicato più come diciamo più fine a fine a un settimanale visto che il sole 24 ore del lunedì è più appunto a fine a un settimanale che non è un vero e proprio quotidiano l'altra cosa che ho messo in evidenza è relativo al era più che altro una riflessione che volevo fare su questo titolo obiettivi 2030 per il fotovoltaico servono 300.000 nuovi addetti che ovviamente oggi non abbiamo ma potrebbe essere un ottimo questo mi dà lo slancio mi dà l'assist per ribadire una cosa cioè quando nei giorni scorsi settimane scorse nei mesi scorsi negli anni scorsi parlavamo e parliamo di di piani di lavoro di programmi di lavoro transitorio di di piena occupazione di azzeramento della disoccupazione involontaria di tutte queste cose dicevamo spesso abbiamo spesso messo in evidenza come il reddito di cittadinanza poteva essere trasformato in un programma di lavoro transitorio che potrebbe essere anche un programma di formazione transitorio nel senso che se servono 300.000 nuovi addetti queste persone vengono formate come addetti nel senso lo Stato crea un'agenzia o utilizza insomma le agenzie che ha già per formare queste persone le scuole che ha eccetera queste persone che vengono chiamate e accettano di partecipare a questo programma di formazione ricevono anche naturalmente una sorta di reddito uno stipendio in modo che così continuino ad andare e formarsi in modo che nel tempo poi creiamo quelle competenze necessarie all'interno della popolazione per poter poi affrontare queste sfide insomma del futuro in qualche modo quindi il reddito il cosiddetto reddito di cittadinanza che oggi viene ovviamente bistrattato dal governo dal governo in carica con delle scuse sostanzialmente che quelle del fatto di stare sul divano insomma tutte queste stronzate qua potrebbe essere sicuramente riformato in quel senso fate lavorare formate formate questa gente la fate lavorare così si supera si diciamo si dà un ruolo diciamo più importante al reddito di cittadinanza però questo ovviamente non vuole non deve essere fatto perché altrimenti si andrebbe come dicevo a contrastare i sacri dettami di Bruxelles insomma sui vincoli di bilancio sull'output gap su tutte queste belle robe qui detto questo chiaramente chi vuole approfondire queste questioni ci sono a disposizione dei video divulgativi che abbiamo fatto in questi negli ultimi anni insomma anche sulla questione dell'output gap del tasso di disoccupazione che non deve che non può abbassarsi sotto una certa soglia ma anche ci sono i nostri videocorsi a disposizione chi vuole davvero approfondire bene certe questioni e lo può fare sul nostro sito www.fef.academy trovate tutte le informazioni che servono per poter diventare cittadini sempre più consapevoli perché appunto la conoscenza dell'economia è fondamentale in questo in questo momento storico detto questo passiamo sulla prima del fatto quotidiano che risponde in qualche modo al titolo di Repubblica di ieri che Repubblica ieri titolava le armi italiane salvano vite stamani travaglio gli risponde dicendo sparano aspirine e supposte lo scrive nel suo editoriale di stamani il solito ma mi faccia il piacere del lunedì però è il titolo principale quindi del quotidiano di Marco Travaglio titola Francesco le canta Zelensky le armi distruggono la pace il virgolettato che attribuisce il fatto quotidiano a Papa Francesco Santa sede irritata per il no di Kiev alla mediazione con Mosca gasato dall'inerzia di Meloni e Scholtz su negoziati l'Ucraino è ormai fuori controllo in Germania chiede una coalizione per darci caccia i famosi jet e secondo il WP progetta altri attacchi in Russia vabbè questo vedremo vedremo un po' cosa cosa succederà in questo senso e poi giustamente a fianco nel colonnino di sinistra il fatto quotidiano ci ricorda una delle tante guerre dimenticate che non c'è solo la guerra in Ucraina nel mondo sono tantissime le guerre purtroppo una di queste è quella del Darfur il titolo è Darfur la guerra dimenticata non è mai finita inchiesta di media part detto questo mi sembra che sulla prima non ci sia del fatto non ci sia nient'altro da evidenziare da evidenziare se ecco vabbè poi la schiera di giornalisti con Vespa che hanno intervistato l'altro giorno c'era Mentana c'era De Bortoli c'era c'era anche Porro di Rete 4 chi c'era poi c'era naturalmente Monica Maggioni direttrice del del TG1 ancora penso per poco visto insomma le nomine che stanno arrivando in Rai le nuove nomine li definisce i tele saturnali da Vespa and Company insomma il fatto quotidiano questa schiera di direttori dei giornaloni detto questo chiudiamo con la verità anche la verità si occupa delle armi delle armi per l'Ucraina le armi a Kiev già costate 13 miliardi il titolo l'articolo è firmato da Francesco Borgonovo il Papa l'Angelus prega per gli ucraini ma non cita nemmeno Zelensky che alla mediazione ha riservato una risposta freddina intanto a Bruxelles ci si muove per la plenaria che garantirà un milione di munizioni e altre dotazioni le spese saliranno ancora avanza la linea dell'alto rappresentante Borrell giustamente il popolo ha fame diamogli più armi ovviamente detto questo poi c'è il commento di ma restiamo un attimo sulla questione volevo aggiungere una cosa sulla famosa felpa con lo stemma neonazista di Zelensky che questa stessa felpa era stata utilizzata in un incontro con Biden a febbraio mi sembra e un altro incontro sempre a febbraio con i vertici dell'Unione Europea cioè con Ursula von der Leyen e con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel quindi c'è anche questo volevo aggiungere anche questo perché mi ha stuzzicato questo argomento sono andato un attimo a vedere effettivamente era già stata indossata questa felpa l'altra cosa che mi sembra sia l'ultima sì l'ultima l'ultima cosa che volevo segnalare è relativa all'editoriale di Maurizio Belpre del Pietro che giustamente se la prende con Landini che dice sostanzialmente che non fa gli interessi dei lavoratori ma della CGL ovviamente ma è un po' come sparare sulla croce rossa di fatto scrive Belpietro Landini dalla luna mille euro rifiutateli questo ovviamente mette in evidenza il fatto che Landini si sia riacceso nel momento in cui Giorgia Meloni abbia fatto questo decreto insomma per aumentare in qualche modo i soldi in busta paga per i lavoratori qui parla di mille euro ma almeno stando ai dati li trattasse agli ultimi dati peraltro li riportava mi sembra il fatto quotidiano qualche giorno fa rispetto a questo decreto lavoro quello che è stato licenziato dal governo il primo maggio non aveva molto diciamo così quei mille euro secondo me almeno il fatto quotidiano diceva che sarà difficile che saranno raggiunti però detto questo insomma Landini ha trovato comunque un pretesto per poter fare un po' di casino per far sembrare che lui è dalla parte dei lavoratori in realtà sappiamo bene che non è così bene mi sembra che per stamani non ci sia altro da aggiungere questa era la rassegna stampa di lunedì 15 maggio 2023 da Matteo Bernabè una buona giornata